Una vera e propria eseguzione, un agguato in stile mafioso, quello che ieri pomeriggio è venuto da Pricena, vittime due pregiudicati, Antonio Petrella di 54 anni e Nicola Ferrelli di 43 anni, zio e nipote, uccisi a colpi di Kalashnikov da un commando composto da almeno tre persone. I due sono stati freddati sulla provinciale che dalla località San Nazario conduce al comune del Foggiano. Secondo quanto trapelato sarebbero stati raggiunti da un'autovettura dalla quale dopo un breve inseguimento sarebbero partiti colpi di fucile. Il conducente del Doblò ferito ha finito la sua corsa con il mezzo contro un palo della segnaletica stradale all'ingresso della zona industriale. A questo punto il commando sceso dall'auto avrebbe finito il lavoro trivellando di colpi i due corpi, almeno 20 quelli di Kalashnikov esplosi più quelli provenienti da altre due armi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Severo, del reparto operativo di Foggia con le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia. Acquisite le immagini di alcune telecamere piazzate in zona. Non si esclude alcuna pista, anche se sembra prendere piede quella di un regolamento di conti.